Easy, Easy, EasyZip Come convertire zip in pdf? Vai a easyzip.com e vai al convertitore corretto. Fai clic su Seleziona file zip da convertire per aprire la selezione file o trascina e rilascia il file zip direttamente su EasyZip. Elencherà tutti i file pdf nell'archivio zip. Fai clic sul pulsante blu anteprimo per aprire il pdf nel tuo browser. Fare clic sul pulsante verde salva per salvare il singolo file pdf sull'unità locale. È così facile. Spero che aiuti. Clicca sul logo e iscriviti. Significherebbe molto per noi.